Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Come potete vedere abbiamo le nuove bombe da bagno! Queste tipo sono arancioni? Sono arancioni e l'altra volta erano blu, adesso le abbiamo trovate arancioni e sono finite! Quindi adesso ci facciamo un bagno nell'acqua arancione! Come potete vedere abbiamo già messo l'acqua, queste sono imbustate, vedete c'è una pellicola, questa già l'abbiamo tolta e quindi adesso le mettiamo tutte in acqua e vediamo che forma una schiuma bellissima! Le abbiamo comprate quattro! Siete pronti? Sì! Sì! Via! Guardate, guardate, guardate! Sì, sono gialle! Sì! Ragazzi, mettiamo la quarta... Guarda! Guardate, l'acqua è già stata diventando arancione! E ora la incomincia a mettere! Metti, metti! Vedete lì che l'acqua è un po' più bianca? Guarda, guarda come frizza! Guarda, 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 guarda! Lasciala, lasciala! Guardate, sono meravigliose queste bombe! E me ne ricontriamo sette! Sette? La prossima volta? Sì! Ok, guardate, guardate, guardate! Se non lo vediamo un po'... Oh, guardate! Sembra un sorriso! No, sembra una luna morta! Come potete vedere, abbiamo preso i nostri squaletti per farci il bagno insieme! Sì! Vedete? Sembra morto, ma è vivo! Un delfino, è allegato, una foca, e adesso arriva lo squalo degli squali! Ora mi butto! Il mio bagno è arancione tutto... Com'è l'acqua arancione? Molto! Bella? Quindi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina e... Ciao!